Cos'è Mystery Academy? Mystery Academy è un progetto che prevede tante cose diverse, principalmente sarà un mio sito sul quale potete trovare un sacco di prodotti che nel corso degli anni ho realizzato, come ebook o filmati, ma non solo, sarà anche e principalmente una serie di video gratuiti che verranno messi sul web, su YouTube e sui social, in cui si parlerà di tutto ciò che ha a che fare con mentalismo e arti affini, quindi anche illusionismo, suggestioni, ipnosi, cold reading e molto altro. L'idea è quella di pubblicare un video alla settimana in cui si parlerà ad esempio di libri fondamentali da studiare per gli artisti di mistero, si parlerà di storia e di cultura, quindi si parlerà dell'origine, di certe forme di mentalismo fin dall'antichità ai giorni nostri, si parlerà di personaggi straordinari che hanno fatto la storia del mentalismo, dell'illusionismo e del mistero in generale. Ci saranno interviste anche con personaggi dell'illusionismo e del mentalismo italiano e mi piacerebbe anche che mi scriveste e mi chiedeste di cosa volete che io parli. Per me sarà un piacere darvi il mio punto di vista. Quindi iscrivetevi al canale YouTube Mystery Academy per non perdervi nemmeno un video. Vi aspetto! Grazie! 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 Grazie!